Condividiamo la natalità, la conterraneità con la più grande pop star degli ultimi 50 anni. Il professor Bassetti, cazzo ragazzi, il professor Bassetti è straordinario perché passa con una semplicità, con una leggerezza, dalle tv locali a quelle nazionali, dal suo studio meraviglioso dove su tutto campeggia la bandierina di Yale che ancora dobbiamo capire se è l'università dove ha studiato lo sponsor di Serature Lucchetti e ancora capire, il professor Bassetti è straordinario, il professor Bassetti è incredibile ovunque, ha il dono dell'obiguità, che sono più di uno, sono la banda Bassetti. La cazzata, però uno la posso dire anch'io, non è che volete fare le cose, una banduta da cabaret, fatemela fare, io per la fine da lì vieni. Comunque Bassetti è plurali, quindi c'ho ragione io, quello che era 139, 139. Comunque, torniamo, il professor Bassetti è mutato più lui del virus, no ma non come opinioni, quelle che cazzo le ascolta più, no proprio come porsi. Allora, primo collegamento, primo collegamento della storia, webcam del telefono, dello smartphone, dal suo ufficio, parete bianca con Gagliardetto del Genoa, primo collegamento, secondo collegamento, ma già cambiato, telecamera Logitech 99,99, regalata da Lilly Gruber e fondale ricostruito digitalmente, già un gradito in più. Terzo collegamento, terzo collegamento, piante, laurea, dietro, un po' di trucco dato da solo, quarto collegamento, sigla iniziale, presa le mani Fabrizio e Andrè, porca troia ve lo buco so di Andrè. Cerone messo su dalla coniata, truc televisiva. Quinto collegamento, truccatrice professionista, poltrona in pelle di Novax, regia di Sorrentino. C'è cazzo ormai la vedo!